Un attimino, torniamo alla diretta della FAO. Dal 2005 al 2015 vorrei ricordare che nell'Unione Europea abbiamo perso 4 milioni di queste piccole fattorie familiari, piccoli agricoltori, quindi vuol dire mille al giorno. Questo è quanto abbiamo perso in quel decennio, quindi di piccole imprese agricole familiari, è stato veramente molto pesante per tutto il sistema. Allora ci sono tutti questi fenomeni, devono essere affrontati a livello globale, abbiamo sentito delle parole molto importanti da parte di Papa Francesco. Vorrei ricordare alcune parole anche di Giovanni Paolo II che ha ricordato le difficoltà e i problemi nel settore alimentare, anche come c'erano tendenze diverse a livello politico, eccetera. Ma è interessante ricordare le sue parole. Il Papa Giovanni Paolo II parlava agli agricoltori, era una giornata dedicata a loro e diceva che dobbiamo resistere alla tentazione di aumentare la produttività e i profitti a discapito della natura. Quando l'uomo dimentica questo principio, la natura si ribellerà contro l'uomo e possiamo osservare proprio i sintomi di questa ribellione, come ho detto, le inondazioni, la siccità, gli incendi, eccetera. Allora, qual è la risposta dell'Unione Europea? Certo, il Green Deal, come ha detto lei Monica, e quindi la biodiversità, anche dobbiamo trovare delle strategie. E vorrei ricordare le parole del Presidente von der Leyen. Ecco, è meglio usare il microfono. La Presidente von der Leyen ha detto che il Green Deal europeo ci permette di strutturare e scegliere una società migliore per il futuro, più prospera e in migliore salute. E queste strategie sono molto importanti, innanzitutto perché dobbiamo... Eccoci, torniamo in studio e torniamo anche... Vediamo un attimo se abbiamo in diretta Perla di Puppa, che dovrebbe avere un altro ospite. Eccolo lì, Perla, a te. Roberto, io sono con il Professor Angelo Riccaboni, economista universitario. Grazie. 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 Grazie.